Ciao a tutti da Davide di Audiocostruzioni, bentornati dalle ferie. Oggi facciamo una cosa così veloce e semplice, vi facciamo vedere le cose più belline che abbiamo attualmente, siamo alla fine di agosto ed esattamente il 30 agosto, le cose diciamo più carine, ma così velocemente. Poi state sul sito perché vi faremo anche vedere proprio la video vendita, ma la facciamo verso il fine settimana. Ma partiamo subito perché delle robe ne abbiamo a bizzeffe, vabbè tanto per dire MC252 della Macintosh, stupendo a 3.900 euro, questo è il 250 watt della Macintosh, è un finale che è ricercatissimo, lo devo ancora mettere addirittura sul sito. MC302, questo qua è la versione da diciamo più moderna del 252, dopo siamo passati a quello lì, è un 300 watt, sempre con i trasformatori d'uscita, il prezzo lo trovate lì, 5.500 euro. Incredibilmente è saltato fuori dal sito, cioè dal sito, dal magazzino delle MP, una coppia di Sonos Faber, le Vener 2.5 bianche, sono nuove, quindi garanzia di 24 mesi, anche se sono usciti di produzione da un po', sono diciamo rimanenza di magazzino, chiamiamo così, ma perfette, gran suono, a 2.100 euro. Poi questi sono ricordi prezzi, comunque abbiamo anche una bella coppia di monitor audio, le PL200, le due, l'ultime, Ebony, a prezzo molto interessante, magari se ci mandate una mail, come anche le Tannoy, le Stirling GR, l'ultima versione, anche quelle a prezzo veramente formidabile. Allora, Nuovista ce l'ho da un po', no? È l'integratore della Musical Fidelity, è un ibrido, no? È 220 watt, l'ho messo fuori 5.200, comunque se volete, proprio per questo l'ultimo che ho, 4.500 e ve lo lascio molto ma molto volentieri. Questo ci faremo proprio un video apposito, perché questa è una macchina stupenda, finalmente è arrivato, Maranz è il 30N, è l'SACD però che fa anche da streamer di rete della Maranz. Il prezzo mi pare che siamo attorno ai 3.000 euro, se non vado errato, comunque lì verrà fatto proprio una scheda apposita, giusto per quel modello lì. Andiamo a vedere qua cosa abbiamo di interessante, beh, sicuramente questo pre-finale Itachi, molto molto bello con i W-Meteroni, a MOSFET, a 9,90. In conto vendita, questo è stato anche giudicato l'integrato più bensuonante, un italiano non tanto corretto, comunque il Gryphon, a 4.900 euro, questo perfetto unico proprietario con imballo ce l'hanno dato in conto vendita. Come ci hanno dato in conto vendita questo Denon qua? È un lettore CDSA CD, peserà quasi una ventina di chili, è stupendo questo qua, fa anche da DAC, se ricordo bene, dietro c'è anche l'entrata USB addirittura, a 2.300 euro. Qua per chi vuole un CD che però già aggiornato, perché facendo la DAC possiamo anche usare la musica liquida col nostro PC, ha 2.300 euro. Abbiamo due bei finali della Macintosh, una a 1.750, una a 2.550, ma anche qua questo ce l'ho lì da un po', stranamente, perché di solito Macintosh va via in fretta, ve lo lascio anche a meno, a 2.300 ve lo posso lasciare, e poi dopo abbiamo tutta una serie di pre audio video, sempre della Macintosh, molto molto interessanti, lì ci sono dei prezzacci, soprattutto per il CR12, che è un prodotto un po' particolare, ma fa anche da pre e mi pare di averlo messo fuori 700-800 euro. Comunque sul sito trovate tutti i prezzi. Andiamo avanti, caro Teo. Ah, bello questo qua. Audio Reserce, l'HD220 è un finalono che suona da Dio, a 3.750. Poi, 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 ci hanno fatto un prezzaccio per questi Listen & Co, no? L'importatore ci ha fatto un prezzo veramente fatto bene, li vendevamo questi integratini qua da 80 watt, ibridi, quindi con la sezione pre a valvole, molto molto ben suonanti, li vendevamo a 1200, ma c'è stata fatta un'offerta, se ne prendevamo tre pezzi, veniva giù, siamo a 6,90. Guardate se sono belli questi qua, questi a 6,90 non trovate niente in giro di così carino a questo prezzo. Anzi, lo lasciamo acceso perché fa anche molto molto fashion. Andiamo qua di dietro, stupendo, pre finale, musical fidelity, l'M6, l'ultima versione, questi hanno un anno di vita, parliamo di un anno quindi perfetti con imballo, ancora garanzie e quant'altro, 2650, la copiata pre e finale. Per gli appassionati Bang & Olufsen, un bel sistemino, quello lì si tocca, si apre tutte le sorte figate di Bang & Olufsen, è strepitoso. Abbiamo due bei girabobine, un... Tecnico. Sì, il 1500 in conto vendita a 1680, oppure un Revox, il... Piero 99. Sì, sono appena tornato alle ferie e sono un po' sfagiolato, a 1900 euro, entrambi veramente molto interessanti. Qua sotto, vedete, Klipsch Eresi 1, bellissime, la serie Luxury perché ne facevano due modelli, una con questa Luxury tutta in legno, no, impialecciata e la serie economica che si differenziava col fatto che era un multistrato e si vedeva qua il multistrato, diciamo questa è la serie Luxury, mi pare, 1350 euro. Poi andiamo avanti, vabbè, dopo comunque vi faccio la video vendita fatta bene, ma io vi butto lì delle cose, vi do da mangiare un po' di roba, diciamo. MBL da 120 watt, questo pesa 18 chili, 1490 euro. Poi andiamo avanti, ah, Servinvega, guardate, abbiamo sia le AT100 che le AT60, sono prezzate una 790, l'altro non me la ricordo, ma l'ho trovato sul sito. Queste qua cosa c'hanno di belle? Queste venivano marcate sia Servinvega che Infiniti. Stessi diffusori, molto efficienti, per chi vuole non spendere molto e avere un'efficienza esagerata, qua trova pane per i suoi denti. Ma andiamo avanti, questo lo dobbiamo ancora apprezzare, è arrivato proprio ieri e bellissimo, eh, questo Yamaha AS2100. Il prezzo lo dobbiamo ancora definire, comunque non c'è l'imballo, va fatto il ritiro a mano. Un pre strepitoso per chi vuole qualcosa di fascia veramente molto ma molto alta, è il VTL, è un prevalvole, questo è senza entrata Fono, col telecomando a 2200 euro. Andiamo più sotto, il nostro cavallo di battaglia Roma 510, parliamo di prodotto nuovo a 2002, è un ampli, un integrato da 80 watt strepitoso made in Italy, e sotto troviamo il Copland, il finale a 1950 euro, quello lì è veramente molto bello. Ah, un'altra cosa che è arrivata, che ancora la dobbiamo mettere sul sito, un bel finalino della Marans, il 140, con i suoi Vmeter, quello lì 70 watt che suona da Dio. Ma andiamo qua, andiamo sempre avanti, qua cosa chiamiamo di interessante, abbiamo un bel dvd della Macintosh che fa da dvd cd, quindi a 1950, tenuto da Dio. Poi abbiamo il tuner della Macintosh, l'mr 7084 a 1390, ma insomma vengo anche giù. Queste le ha restaurate Filippo, veramente sono strepitose, GBL Sentry, l'L100, sono tutte messe a posto, chiediamo 1500 euro senza i supporti, i supporti se interessano possiamo vendere anche quelli, magari chiedete e vediamo. Altro pezzo stupendo è questo qua, l'Acofese l'E210, con la sua scheda Fono, perciò scheda di fascia non alta, altissima, a 1850 euro. Io vi faccio vedere sulla roba figa oggi, niente robetta. Vabbè queste dopo le metteremo in vendita, sapete la storia, sono quelle che ci hanno sciappinato dentro, però suonano bene, no? Abbiamo sistemato un po' i medi perché guardate come si presentano bene e le mettiamo fuori così come sono, con i cavi un po' un po' rattrappite dentro, un po' lavorate, a 2005. E questo io penso che, queste Avalon ci siamo molto. Qua cosa abbiamo di molto, molto interessante, ma qua ho della roba praticamente dapportutto, Exposure pre finale, questi suonano da dio, questi Exposure qua, sono una bomba, il prezzo lo trovate sul sito. Poi di molto molto carino, cosa possiamo avere in questa zona qua? Beh, questo dual qua è bellissimo, non costa molto, è un bel lettore, è un bel giradischi. Qua cosa abbiamo? Una bella coppia di ciario, sempre da non spendere molto. Insomma, io direi che per questa infarinata va molto bene. Però adesso, se avete un attimo, andiamo su e vi faccio vedere la roba che è arrivata imballata, perché è arrivata per fortuna un po' di roba, riusciamo a venderla, che abbiamo passato un giugno e un luglio che praticamente non c'era quasi niente, l'andiamo a vedere insieme. Ecco, qua siamo nel magazzino che abbiamo su. Vi faccio vedere solo alcune cose, tanto per dire, no? Forte tre, ne sono rimaste una coppia, abbiamo alcune trattative in ballo, comunque tutto sommato sono ancora disponibili e mi pare 3,7 se non vado errato. Olimpica Nova 2, queste forse sono già fermate da un cliente. Qua parliamo di Clipsch, l'Eresy 4, le Cornwall 3, ma sono già fermate anche quelle lì, forse anche già pagate a un cliente, una coppia di Thunberry della Thunoy e, venite a vedere, qua abbiamo tutto diciamo un po' di roba, lì Filippo fa le sue cose un po' in giro, i suoi pettorali. Qua abbiamo tutta una serie di, come posso dire, imballi, non sappiamo mai più dove metterli e qua abbiamo l'altro rimanente di magazzino. Allora, di interessante cosa abbiamo, cosa abbiamo per voi? Per esempio, cocktail audio N25, lo streamer che adesso sta andando per la maggiore, ce ne abbiamo due in casa, è arrivato anche uno, due cd della Marans CD 6700, un ND 8600 sempre della Marans che fa da CD a streamer di rete, Torrens CD 202, andiamo qua, il Marans SA12, stupendo, è il lettore CD, SA CD della Marans, il top di gamma, insomma, non è proprio il top, ma ci si avvicina molto, l'Eclipse, le 6.20, le 8.20 le teniamo sempre in casa, Indiana Line 561, sia nere che legno, le Magnus Transplus 1000, ma soprattutto abbiamo Advance X50 Bluetooth, che ne abbiamo presi un po' perché questi vanno veramente bene, i clienti rimangono contenti, con 400 e tot euro, mi pare 4.30, adesso dipende, insomma, poi anche una cosa prende, si ha un amplificatore strepitoso, che suona bene col Bluetooth, l'entrata Fono, insomma, veramente bello. Ah, ecco, tornato disponibile qualche Warfidel, le 4.4 e anche le 4.2, ma, ma, è questo che vi voglio far vedere. Ne abbiamo presi un po' perché questi sono, ci credo moltissimo, questo prodotto qua. Magnat MR780, faremo il video tra qualche giorno, è un integrato, un sito ampi, scusate, con ibrido da 80 watt, con la sezione prea valvole, trovate già la scheda sul sito Audiocostruzioni, ma non il video, ma lo faremo presto perché è un prodotto strepitoso, costa 9.99 di listino, 8.50 scontato, entrata Fono, entrata Bluetooth, entrata USB, entrata ottica digitale, quindi ci possiamo collegare la TV, insomma, Alfa Tooth e sintonizzatore, sia DAB2 che FM normale, quindi strepitose, ne abbiamo presi un po'. Ma andiamo avanti, qua abbiamo tutta la serie dei Macintosh, vedete, ne abbiamo un bel po', il 5.300, l'8.900, il 9000, il 352, insomma, pensiamo di avere un bel po' di roba, qua abbiamo tutti i Roma, della Synthesis, e andiamo a vedere qua. Sono arrivati finalmente gli Audiolab, sia gli 8000 che i 6000, perciò parliamo di integratini e streamer di rete e quant'altro, sul lettore CD. Sono arrivati i CD 11 della Rotel, che vendiamo molto bene, mi pare 4.90, 4.50, che questo è un gran lettore CD, i Denon è arrivato un po' di CD e anche il PM800, Roxanne teniamo sempre sia il K3, addirittura abbiamo anche il Black in casa, e Marans, il PM6700, che farebbe una copiata strepitosa col suo lettore CD, come dicevo, gli Audiolab, i Listen in Co, insomma, ah, ecco cos'è che è arrivato. Sono arrivati anche i Musical Fidelity, questo è il M2 CD, che è quello piccolino, ma, ma, qui abbiamo due bei M6, questi suonano da Dio, sono i 220 watt, mi pare 2.290, 2.3, si ha un gran bel lavoro, sempre Rotel A11, anche queste le stravendiamo, perché sono amplificatorini che non costano molto e danno grandi soddisfazioni, Monitor 100, anche queste le consigliamo sempre, insomma, vedete che della roba ne abbiamo un po' dappertutto. Faremo la video vendita tra qualche giorno, seguiteci sempre, ciao da Davide, Matteo e Filippo di Audiocostruzioni.